Gino, Mercedes è presente in piazza per la città? Questa mattina abbiamo portato due vetture, una Smart Hashtag One, una vettura molto esclusiva che va a sposare quelle che sono le caratteristiche di un veicolo elettrico, però con discrete autonomie per quello che è il segmento e un'ottima potenza rispetto a quelli che sono i competitor. Dall'altra parte abbiamo un SL63, una vettura molto esclusiva di casa Mercedes-Benz AMG con la bellezza di 585 CV e un 4000 V8 biturbo, quindi un'auto sensazionale da un punto di vista delle performance che comunque rimane una vettura super lussuosa e confortevole come da Dogme di Mercedes-Benz.